100 anni di passione, vittorie e avventure per Moto Guzzi e per una storia su due ruote che ha conquistato il mondo. Sul calendario, la data esatta in cui il marchio di Mandello dell'Ario festeggia il suo primo centenario è quella del 15 marzo. Ma sarà a lungo tutto il 2021 che Moto Guzzi festeggerà il suo secolo di storia. Motociclette i cui nomi hanno reso famosa la casa motociclistica italiana, avventure e personaggi che hanno costruito il mito del marchio dell'Aquila. Un traguardo importante per Moto Guzzi, quello dei 100 anni, che arriva proprio nel momento in cui il marchio sta vivendo una sorta di nuova giovinezza. A scandire il nuovo ritmo della casa c'è prima di tutto una gamma di moto profondamente rinnovata di recente, con modelli dai nomi storici e presentati di recente nelle loro nuove versioni. Si legga al capitolo B7, ma anche novità come la V85TT che ha conquistato i cuori dei guzzisti di Mezzomondo. Novità importanti quindi, ma sviluppate mantenendo intatti i valori di stile e autenticità del marchio, il tutto condito dalle migliori dotazioni tecniche in termini di supporti elettronici alla guida e tecnologia.